Il dirigente del comune di Salerno Luca Caselli ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulle cooperative sociali si è avvalso della facoltà di non rispondere scegliendo di rimanere legittimamente in silenzio. Si è aperta così la mattinata di oggi data di avvio degli interrogatori delle persone finite nell'inchiesta della procura della Repubblica di Salerno che ha portato lunedì mattina gli agenti della squadra mobile di Salerno ad applicare la misura cautelare in carcere nei confronti di Fiorenzo Zoccola detto Vittorio l'imprenditore a capo delle otto cooperative sociali finite nelle indagine contestualmente gli arresti domiciliari non solo per l'ingegnere Luca Caselli ma anche per il consigliere regionale Nino Savastano mentre per altre sette persone alla guida delle diverse cooperative il divieto di dimora nel comune di Salerno. L'inchiesta che ha coinvolto 29 persone vede tra gli indagati anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ed è scattata anche in seguito ad alcune denunce del consigliere comunale Peppe Ventura. Oggi alla cittadella giudiziaria di Salerno l'avvio degli interrogatori che di fatto alla fine non ci sono stati. Rinviati quelli di Nino Savastano e del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli tutti difesi dall'avvocato Cecchino Cacciatore così gli altri saltati per un difetto di notifica degli atti. Dinanzi al GIP si è concretizzato solo l'interrogatorio di Fiorenzo Zoccola punto di riferimento delle cooperative sociali salernitane e da lunedì mattina rinchiuso nel carcere di Fuorni difeso dall'avvocato Michele Sarno mentre tutti gli altri sono stati rinviati. Un atto di indagine importante quello di stamattina per i giudici del tribunale di Salerno ed uno strumento di difesa per Fiorenzo Zoccola considerato dagli inquirenti di Salerno il capo di un sistema di collusioni tra le cop e l'amministrazione comunale di Salerno finito in carcere con l'accusa di associazione a delinquere e turbativa d'asta sugli affidamenti per i lavori di manutenzione urbana che avrebbe generosamente contribuito anche al tesseramento del PD salernitano. Ed è di ieri il capitolo 2 dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Gianluca Izzo l'ex presidente della cooperativa San Matteo marito della neo candidata consigliera Alessandra Francese nella lista dei progressisti per Salerno a sostegno di Napoli e Umberto Coscia un dipendente della cop stretto collaboratore di Gianluca Izzo. Arresto maturato per le pressioni sul voto dopo la diffusione dell'audio con il quale si avvisavano i dipendenti delle imprese sociali di votare per i candidati indicati dai vertici del gruppo. La misura cautelare dei domiciliari è solo temporanea 20 giorni giustificata secondo gli inquirenti dal pericolo che i due possono inquinare le prove. Un'inchiesta che si intreccia sempre più con i rapporti delle cooperative con il comune di Salerno e le operazioni di voto.